A quello di questi giorni gli hanno affibbiato il nomignolo di Nerone, ma in passato, ormai è dal 2013 che questa moda nata sul web, sui siti meteo di Laga, ai poveri anticicloni africani responsabili di quelle ondate di calore terribili come quella di questi ultimi giorni, sono stati impietosamente attribuiti i nomi più mefistofelici ed evocativi, sempre di temperature roventi, Caronte, Lucifero, Scipione e perfino Ugolino, direttamente dal girone infernale dantesco. Nerone, dicevamo, da domenica sta arroventando l'Italia con temperature oltre i 36 gradi ed oggi e domani si toccherà l'apice delle temperature, ma come si fa a superare questo momento? Vedete queste giornate di grande caldo? Drammatiche, veramente, sì, sì, sì. Qualche rimedio così estemporale? O a casa con l'aria condizionata o in giro con la macchina fino a sera con l'aria condizionata. Se uno ha l'aria condizionata? Soffre, purtroppo soffre, non c'è rimedio, o al mare, ecco, però per chi è che lavora ci vuole l'ambiente climatizzato, sicuro. E chi non dispone di strumenti meccanici di refrigerazione come fa? Socombe o fa di necessità virtù? Il caldo di questi giorni, come facciamo? Cosa dobbiamo fare? Niente. Sopportare un po'? Sopportare un po', stare dentro al fresco, possibilmente, di uscire possibilmente meno nelle ore più calde, non come sto facendo adesso io, però va bene così. Un po' d'acqua, un po' di rifrigerio? Un po' di acqua, un po' di rifrigerio, così va bene. Me lo tengo, tanto siamo a luglio, è passato verso la metà di luglio, per cui... Evitare magari le ore centrali, non so, bere molto. Sì, certo. E tanto, che vuoi fare? Ho sentito tanto freddo in questo inverno, adesso il caldo me lo tengo. Il caldo è l'arsura di questi giorni, come facciamo? Un cardiologo invasivo, è uno psicanalista, avere la calma, la tranquillità, quiet, quiet. Non agitarsi più di tanto? E non dirlo, perché più lo dici e più lo provi. Come vince il caldo di questi giorni, così affoso, così opprimente? Oggi è una pazzia uscire. Bisogna stare chiusi in casa un po' al fresco. Sì, no, ma infatti è così. Io sono uscito per forza e mio figlio si è incazzato come una besa. Ha detto è caldo le bestie. Bisogna evitare le ore calde. Va bene, ormai sono partito qui, vado giù al mare, speriamo che sia più caldo. E quindi se per necessità dovete uscire di casa in queste giornate così calde, così affose, piccole precauzioni. Un copricapo per coprirvi e ripararvi la testa, portatevi dietro una bottiglietta d'acqua, girate possibilmente il più all'ombra possibile e poi, se potete, tutto con molta calma e magari trovate anche il refrigerio in una piccola pausa con una bibita fresca. Buona estate a tutti!